Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro itinerario sul tema della preghiera, ci stiamo rendendo conto che Dio non ha mai amato avere a che fare con oranti facili. E nemmeno Mosè sarà un interlocutore fiacco fin dal primo giorno della sua vocazione. Quando Dio lo chiama, Mosè è umanamente un fallitto. Il libro dell'Esodo ce lo raffigura nella terra di Madian come un fuggiasco. Da giovane aveva provato pietà per la sua gente e si era anche schierato in difesa degli oppressi. Ma presto scopre che, nonostante i buoni propositi, dalle sue mani non sgorga giustizia, semmai violenza. Ecco frantumarsi i sogni di gloria. Mosè non è più un funzionario promettente, destinato ad una rapida carriera. Ma uno che si è giocato le opportunità e ora pascola un grece che non è nemmeno suo. Ed è proprio nel silenzio del deserto di Madian che Dio convoca Mosè alla rivelazione del rovetto ardente. Io sono il Dio del tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. A Dio che parla, che lo invita a prendersi nuovamente cura del popolo d'Israele, Mosè oppone le sue paure, le sue obiezioni. Non è degno di quella missione. Non conosce il nome di Dio. non verrà creduto dagli israeliti a una lingua che balbetta e così tante obiezioni. La parola che fiorisce più spesso sulle labbra di Mosè in ogni preghiera che rivolge a Dio è la domanda perché? Perché mi ha inviato? Perché vuoi liberare questo popolo? E perché? Perché? Nel Pentateuco c'è perfino un passaggio drammatico dove Dio rinfaccia a Mosè la sua mancanza di fiducia, mancanza che gli impedirà l'ingresso nella terra promessa. Con questi timori, con questo cuore che spesso vacilla, come può pregare Mosè? Anzi, Mosè appare uomo come noi. e anche questo succede a noi. Quando abbiamo dei dubbi, ma come possiamo pregare? Non ci viene di pregare. Ed è per questa sua debolezza, oltre che per la sua forza, che noi rimaniamo colpiti. incaricato da Dio di trasmettere la legge al suo popolo, fondatore del culto divino, mediatore dei misteri più alti, non per questo motivo cesserà di intrattenere stretti ligami di solidarietà con il suo popolo, specialmente nell'ora della tentazione e del peccato, sempre attaccato al popolo. Mosè mai ha perso la memoria del suo popolo. E questa è una grandessa dei pastori. Non dimenticare il popolo, non dimenticare le radici. E come Paolo dice al suo amato giovane vescovo Timoteo, ricordati di tua mamma e di tua nonna, delle tue radici, del tuo popolo. Mosè è tanto amico di Dio da poter parlare con lui faccia a faccia e resterà tanto amico degli uomini da provare misericordia per i loro peccati, per le loro tentazioni, per le improvvise nostalgie che gli essu li rivolgono al passato, ripensando quando erano in Egitto. Mosè non rinnega Dio, ma neppure rinnega il suo popolo. È coerente con il suo sangue. È coerente con la voce di Dio. Mosè non è dunque condottiero autoritario e despottico. Anzi, il Libro dei Numeri lo definisce più umile e mansuetto di ogni uomo sulla terra. Nonostante la sua condizione di privilegiato, Mosè non cessa di appartenere a quella schiera di poveri in spirito che vivono facendo della fiducia in Dio il viattico del loro cammino. È un uomo del popolo. Così il modo più proprio di pregare di Mosè sarà l'intercezione. La sua fede in Dio fa tutt'uno con il senso di paternità che nutre per la sua gente. La scrittura lo raffrigura abitualmente con le mani tesse verso l'alto, verso Dio. quasi a far da ponte con la sua stessa persona tra cielo e terra. Perfino nei momenti più difficili, perfino nel giorno in cui il popolo ripudia Dio e lui stesso come guida per farsi un vitello di oro, Mosè non se la sente di mettere da parte la sua gente. È il mio popolo, è il tuo popolo, è il mio popolo. Non rinega Dio né del popolo e dice a Dio questo popolo ha commesso un grande peccato, si sono fatti un Dio d'oro, ma ora se tu perdonassi il loro peccato altrimenti se tu non perdonassi questo peccato altrimenti cancellami dal tuo libro che hai scritto. Mosè non negozia il popolo è il ponte è l'intercessore ambe due il popolo è Dio e lui è immesso non vende la sua gente per far carriera non è un arrampicatore è un intercessore per la sua gente per la sua carne per la sua storia per il suo popolo è per Dio che lo ha chiamato è il ponte che bell'esempio per tutti i pastori che devono essere ponte per questo gli si chiama pontifex ponti i pastori sono dei ponti fra il popolo al quale appartengono e Dio al quale appartengono per vocazione così è Mosè perdona Signore il loro peccato altrimenti se tu non perdoni cancellami dal tuo libro che hai scritto non voglio fare carriera con il mio popolo e questa è la preghiera che i veri credenti coltivano nella loro vita spirituale anche se sperimentano le mancanze delle persone e la loro lontananza da Dio questi oranti non le condannano non li rifiutano l'atteggiamento dell'intercessione è proprio dei santi che a imitazione di Gesù sono ponti tra Dio e il suo popolo Mosè in questo senso è stato il più grande profeta di Gesù nostro avvocato e intercessore e anche oggi Gesù è il pontifex il ponte fra noi e il Padre e Gesù intercede per noi fa vedere al Padre le piaghe che sono il prezzo della nostra salvezza e intercede e Mosè figura di Gesù intercessore oggi che Gesù prega per noi intercede per noi Mosè ci sprona a pregare con il medessimo ardore di Gesù a intercedere per il mondo a ricordare che esso nonostante tutte le sue fragilità appartiene sempre a Dio tutti appartengono a Dio i più brutti pecatori la gente più malvagia i dirigenti più corrotti sono figli di Dio e Gesù sente questo intercede per tutti e il mondo vive e prospera grazie alla benedizione del giusto alla preghiera di pietà a questa preghiera di pietà che il santo il giusto l'intercessore il sacerdote il vescovo il papa il laico qualsiasi battessato eleva incessantemente per gli uomini in ogni luogo e in ogni tempo della storia pensiamo a Mosè l'intercessore e quando ci viene voglia di condannare qualcuno e ci arrabbiamo dentro ma arrabbiarsi fa bene e un po' di salute ma condenare non fa bene tu ti arrabbi cosa devi fare vai a intercedere per quello ci aiuterà tanto grazie 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 grazie